Finale del singolare maschile ai campionati internazionali di tennis a Palermo. Sono di fronte il nostro Beppe Merlo e il messicano Mario Llamas. Contrariamente alle previsioni che lo danno per favorito, l'italiano è in giornata di scarsa vena e l'avversario, giocando con molta accortezza, prima lo mette in difficoltà. Prende poi il sopravvento e con un magnifico crescendo finale conquista la vittoria. La delusa folla a corsa attorno al kart ha subito dopo una bella ricompensa. Il nostro duo di Coppa Davis e Pietrangeli Sirona si batte con vigore e molto accorgimento contro la coppia formata dall'australiano Howe e dal sudafricano Segal. La lotta è entusiasma, ma alla fine gli italiani la spuntano sui forti avversari.